Sono passati due mesi dalle elezioni, forse un tempo breve, ma anche abbastanza congruo per fare un piccolo bilancio. Quindi le chiedo appunto questo, di fare un piccolo bilancio di questo periodo. Due mesi intensi di lavoro. Credo che noi abbiamo chiarito subito il ruolo che vuole giocare questa giunta, anche in termini di discontinuità col passato. Penso al primo atto, l'eliminazione delle auto blu per gli assessori, chiarire subito, provare a metterci in sintonia con le difficoltà economiche e sociali di questa fase. E poi credo che l'impegno da subito, anche su un grande progetto, un importante progetto come l'avvio del più grande parco archeologico del mondo, segnali insomma che questa giunta ha da una parte le idee chiare sul fatto che serve anche qui un elemento di grande novità se noi vogliamo rilanciare Roma anche dal punto di vista non solo della sua immagine, ma anche proprio dal punto di vista dell'economia servano fatti appunto come pensare a un grande progetto che sia della dimensione necessaria per rilanciare Roma dal punto di vista anche internazionale. È un grande progetto per una importante città come Roma, per cui va collocato in quella dimensione, avrà un impatto, oggi trova ovviamente dei dubbi, delle perplessità da parte soprattutto degli abitanti dell'area circostante, ma non c'è dubbio che tutta la città avrà un grandissimo beneficio rispetto al suo futuro. Insomma ecco il Parco dei Fori prova a guardare Roma non oggi, non domani, neanche dopodomani, ma insomma rispetto al suo futuro. Un noto quotidiano capitolino negli giorni scorsi ha scritto, sempre riguardo al bilancio, dei possibili aumenti, nel caso appunto quando approverete il bilancio, di alcune tasse proprio per far quadrare i conti, quindi i cittadini romani che andranno a pagare avranno questa diciamo sgradita sorpresa. Lei si sente di fare assicurazioni contrarie a riguardo? Io mi sento di dire questo, già l'ho detto nella parte precedente, nel senso che noi dobbiamo avviare un confronto col governo proprio sul trasferimento di fondi dallo Stato alla capitale d'Italia. Penso che nella nostra città e nella nostra regione le tasse sono già purtroppo troppo alte per i debiti pregressi che hanno accumulato queste istituzioni. Penso che noi dobbiamo difendere il nostro sistema produttivo, il nostro sistema fatto di piccole aziende, di micro aziende che sono il tessuto della economia della città. E credo che la scelta di trovare sempre la scorciatoia, di aumentare le tasse per far quadrare il bilancio non funziona e non funziona soprattutto in una fase di difficoltà economica come sta attraversando la nostra città.